eccoci qui a asciugare Olaf che ha appena finito il bagnetto bravo Olaf guardate che asciugacapelli che abbiamo qua mamma mia guardate che bravi dove vai poppy vieni qua aver fatto il bagnetto a tutti i cagnolini ora si fanno le frittelle sono frittelline di carnevale ogni scherzo vale vale guardati uccelli cosa stai facendo ha già messo la prima su prima volta non è lo zucchero e quindi lo facciamo no ci puoi mettere anche lo zucchero grosso no dai metti lo zucchero normale non a velo non va bene quello a velo ma sei matta no non fare questo sbaglio veramente non fare questo sbaglio non mettere quello a velo guardate qua lui tira la pasta tira mamma mia che chef che allora purtroppo non abbiamo lo zucchero normale quindi facciamo così vi chiediamo a voi se mettere lo zucchero a velo oppure lo zucchero di canna così però no forse è meglio quello vedo eh ma ha sempre ragione ma non hai veramente finito tutto quello normale devo ripetertelo sì ma l'ho remesso eh c'è il bambino stavolta lo dico dicevo dicio dicio questa che sberla si bella 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 quella la mangio io dai allora mi sacrifico io no la prima non si mangia mai la prima quella non si mangia no la prima non si mangia mai come se fosse una prova eh vabbè mi sacrifico io per la prova che è che bello non è buona c'è del caffè vai 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 guarda alle a a a ahh ah a a a a a a a